Pronto riscatto della SD Foggia Rugby che dopo la sconfitta partita in casa nella giornata d'apertura della campionato pugliesi di C2 per mano del Potenza Rugby ha vinto domenica a Taranto con un netto 35-15 e mete realizzate nell'ordine da Bentivogli, Radiele, Daddario, ancora Daddario e Renzulli. Una vittoria che consente al 15 di coach Cassinese di balzare in vetta alla classifica a quota 6 con una lunghezza di vantaggio su Potenza e Corato e 2 su Bitonto, il quadro completo di risultati della seconda giornata, Cosenza Francavilla 65-3, Modugno Corato 10-22, Taranto Foggia Rugby 15-35, Bitonto Barletta 10-6. In classifica come detto Foggia in testa con una lunghezza di vantaggio su Potenza che domenica ha osservato il suo turno di riposo e Corato. Il successo della prima squadra è stato bissato dall'Under 18 dell'ASD Foggia Rugby che ha esordito proprio a Taranto nel campionato di competenza con un chiaro 48-5 mete di Delpriore Corvino Pompei Bisceglia, crescente nel primo tempo e di Cifo Delicari e ancora Bisceglia nella ripresa.